Buonasera a tutti, ben ritrovati sul canale. Questa sera facciamo un video a una sola variante, una stesa unica. Andremo a chiedere una situazione che riguarda il vostro percorso spirituale. Quindi se le vostre guide vi devono comunicare qualcosa, lo faranno adesso tramite questa lettura. Come è già successo precedentemente, vi dico che potreste non ritrovarvi in questa stesa. Questo significa semplicemente che non sto canalizzando la vostra energia. Questo è normale perché essendo un video con una sola variante potrebbe essere che non ci sia la vostra. Quindi vi chiedo per favore di ascoltare l'introduzione, vedere se vi ritrovate nella prima stesa che facciamo con le carte e poi vedere se proseguire. Utilizzerò questo mazzo di oracoli, perdonatemi di tarocchi, un mazzo di oracoli e un altro mazzo di tarocchi all'evenienza. E detto questo partiamo subito. Vi ricordo che io sono anche su Instagram, potete trovare il mio profilo nella bio del canale. Allora, che cosa devono ascoltare le persone che stanno guardando questo video? Che cosa devono ascoltare le persone che guardano questo video? Cosa c'è di importante che le vostre guide vi vogliono comunicare e che possono dirvi attraverso di me in questo momento? Che cosa dovete ascoltare? Ci sono delle informazioni importanti che le persone di questo video hanno bisogno di ascoltare? Abbiamo la carta del mondo Abbiamo la carta del re di bastoni Il tre di bastoni Poi abbiamo la carta del tre di denari La carta del sei di denari Mi era uscito E' sparito Mi era uscito anche l'asso di coppe Vedete Vedete che non doveva uscire adesso Il motto Il mago Il cinque di spade Il sette di coppia al contrario E un'ultima carta per favore Abbiamo un filo Abbiamo la carta del dieci di denari Ok Sul fondo del mazzo c'è il quattro di denari Allora, molti di voi si stanno chiedendo dove stanno andando Da quello che vedo c'è molta confusione Perché Potreste non avere chiaro bene Dove l'universo vi stia portando Ci sono molte cose che sono confuse in questo momento Non capite dove Realmente l'universo voglia portarvi Magari ci sono delle cose che Stanno accadendo Ma sono fuori dal vostro controllo O comunque non vi aspettavate che accadessero Anche magari il modo in cui sono accadute O stanno accadendo Non vi aspettavate questo Quindi vi state chiedendo Se Si è alla strada giusta Se voi abbiate fatto le cose giuste O se semplicemente l'universo vi stia portando In una direzione che vi è sconosciuta Vedo che con il mondo Le vostre guide vi vogliono comunicare Che se anche non l'aveste realizzato Voi vi siete lasciati un ciclo alle spalle Per cui in realtà C'è qualcosa che è rimasto indietro È rimasto indietro nel passato E che non deve più seguirvi Questo potrebbe comprendere Abilità che magari Non sono le vostre Magari ci sono persone tra di voi Che pensavano di avere un percorso Mentre poi si sono resi conti di averne un altro Per molti altri potrebbe Potrebbe riguardare Delle situazioni Che non sono più in risonanza Con la vostra energia La vostra vibrazione Ci sono delle persone Che sono rimaste tagliate fuori Per molti E non capite bene Forse quale sia stata la dinamica Ci sono delle persone Che Sono semplicemente andate via Dalla vostra vita Potrebbero essere Amici Potrebbero essere Conoscenti O anche partner Persone che però Pensavate Dovessero rimanere Nella vostra vita Più a lungo Ecco Quello che vedo qui È che in realtà Quelle persone Non erano più alineate Con la vostra energia O non le sono mai state Quindi l'universo Le ha semplicemente Allontanate Forse in questo momento È necessario Che questo accada Se sono persone Con le quali vorreste Riprendere i contatti Questo potrà avvenire Nel momento in cui Voi poi Ritroviate La stessa frequenza Energetica Che non vuol dire Che voi dobbiate Abbassare la vostra Ma piuttosto Che queste persone Anche lavoreranno Per alzare la propria Comunque Questo è il passato Perché abbiamo La carta del mondo Che chiude tutto questo Anche situazioni O luoghi lavorativi Molti di voi Potrebbero avere fatto Un grosso cambiamento Tagliato i rami secchi E sapete voi In quale ambito Però vedo Il grande cambiamento Vedo che c'è Un'energia maschile interiore Che è proposta Verso qualcosa di nuovo E potreste anche Avere attirato O stare per attirare Una persona Con un'energia maschile Prevalente Che rispecchia Proprio questo tipo Di attitudine Quindi Per chi di voi Ha conosciuto Per esempio Una persona da poco O sta per conoscere Una persona Se vedeste insomma Arrivare qualcuno Di nuovo a breve Nella vostra vita Queste carte Vi vogliono dire Che questa energia È molto positiva Collaborativa Equilibrata Abbiamo il 6 di denari Quindi una persona Che ci tiene A fare le cose Nel modo giusto A essere equilibrata A darvi Tanto quanto riceve Quindi questa persona La vedo molto positiva Dal punto di vista Dell'equilibrio Forse voi Non siete abituati A questo Perché Nella fase Precedente Quindi Prima del mondo Da quello che vedo Potrebbero esserci state Delle relazioni Non equilibrate Quindi persone Che non davano Quanto ricevevano O che prendevano Più di quanto Poi davano Quindi Potreste avere Dei dubbi Nel momento in cui Conoscete questa persona O se questa persona È entrata nella vostra vita C'è questo Tre di denari Che in questo mazzo È raffigurato Come questa Sorta di Personaggio Che spia Quindi voi Potreste tendere A Osservare bene I comportamenti Di quella persona Prima di potervi fidare Questo è un atteggiamento Che vi può portare A essere più tranquilli Quindi Se vi sentite di fare questo Le Le carte Gli spiriti Vi dicono Che fate benissimo A tutelarvi Però vi vogliono dare Una sorta di Tranquillizzazione Vogliono dirvi Che non c'è niente Di cui preoccuparsi Cioè questa persona Io vedo la sua energia Questa persona O queste persone Che arriveranno Hanno un'energia Equilibrata Positiva Vogliono veramente Fare le cose In modo giusto Con voi E poi abbiamo Un'energia Di Leggerezza Qualcuno Che vi porta In alto Per così dire Vi porta A riscoprire La vostra parte Più leggera La vostra parte Più autentica E Soprattutto Lasciarvi Il peso Indietro Quindi se Vi siete sentiti Molto pesanti Nell'ultima fase Quella che è stata Lasciata indietro Col mondo Sapete che queste Nove persone O questa nuova persona Vi aiuterà in questo Quindi vi lascerete Indietro la pesantezza Questa è una persona O sono persone Che sono in grado Di tirarvi su di morale Farvi passare Momenti Belli Leggeri Quindi Si ritrova un po' La spensieratezza La stesa successiva Quindi la riga successiva Ci mostra Il matto Il bagatto Il cinque di spade Il sette di coppa Al contrario O il dici di denari Il matto Il bagatto Sono due carte Che si susseguono Sono i primi Due arcani maggiori Quindi mi fa proprio vedere È come se fosse Un approfondimento Della riga superiore Mi fa proprio vedere Che cosa succede Dentro di voi Nel momento in cui Dal punto di vista Come posso dire Materiale Capita questo Dentro di voi Che cosa accade Allora Il mondo Corrisponde Allo stesso momento Anche alla carta Del matto Perché appunto I 22 arcani maggiori Si chiudono col mondo E incominciano Poi di nuovo Col matto Quindi in qualche modo Voi lasciate un capitolo E allo stesso momento Incominciate un altro Quindi lo zero Il punto zero Che voi avete raggiunto È questo matto Che poi prosegue Con il bagatto Quindi iniziate Con il nulla Con lo zero Iniziate con Chiudere E ricominciare Per poi Dirigervi verso il matto Quindi il numero uno Quindi l'azione Quindi un primo passo Verso quello che È la vostra nuova vita Vedo che questa persona Se per esempio È una persona Con prevalenza Di energia maschile Che potrebbe essere Entrata nella vostra vita O potrebbe entrare Nella vostra vita A breve Se c'è questa persona Altrimenti è la vostra energia Potrebbe proprio costituire Una sorta di Un primo passo Un aiuto Una sorta di Catalizzatore Per quella che è La vostra energia maschile O comunque Per un passo Un primo passo Verso la materializzazione Di ciò che siete Veramente Quindi sapete che Da adesso Con questo mondo Inizia la vostra Vera vita Come se iniziasse Davvero la vostra Vera vita Perché vi siete Lasciati alle spalle Tutte quelle cose Che non vi servivano Che erano semplicemente Cose apprese Precedentemente Ma che non vi appartenevano Vedo che avete fatto Una grossa Pulizione energetica Per cui sì Questa è una sorta Di nuova vita Che prende Prende Piede Da adesso Come se ci fosse stato Un lutto quasi Della vostra vecchia personalità O di quello che voi siete E che non vi sentite più Di poter essere Perché non siete voi Quindi voi Iniziate Questo nuovo capitolo Con il potere Finalmente Nelle vostre mani In quanto Non ci sono più Credenze limitanti Che lo limitano Ma potete Potete controllarlo Potete controllare Quello che voi volete Manifestare Quello che voi volete Creare nella vostra vita Potete muovere I primi passi Per creare Veramente Quello che volete Sotto la carta Del tre di bastoni Abbiamo questo Cinque di spade Quindi Questo è quello Che accade Dentro la vostra mente Ancora Perché comunque State ancora lavorando Per reprogrammare Tutto quanto bene Ci potrebbero essere Ancora delle ansie Eccetera Quindi quello che accade È che Nel momento in cui Abbiamo visto Questa persona O queste persone O sentiste L'impulso voi Di essere più leggeri Questa persona Vi portasse Essere più spensierati Stavo dicendo Oppure sentiste Il bisogno Di essere più spensierati Ci sono sempre Queste spade Quindi queste Paure Questi pensieri Intrusivi Tutto questo Che è come se Vi tenesse un po' Bloccati Come potete vedere C'è quest'uomo Con questa armatura Che non vede Nemmeno davanti a sé Come se fosse Acceccato Da questa armatura Quindi Questi castelli In aria Castelli mentali Potremmo dire Perché c'è Letteralmente Un castello Costruito Sulla testa Di questa persona In questa carta È proprio sintomo Del fatto Che ci sono Dei pensieri Intrusivi Che a volte Si Intrufolano E che prendono Quasi il potere Sulla vostra mente Non vi lasciano Vivere in maniera Spensierata Quindi Questo è quello Che voi vedrete Lo vedrete Proprio in maniera Molto Vedrete in maniera Appariscente Potremmo dire Vedrete questa cosa Come esterna a voi E come questo Cavaliere guarda La propria spada Lo vedrete come Qualcosa di esterno Finalmente Quindi non qualcosa Che vi appartiene Ma qualcosa Che può essere Lasciato fuori Di voi E dalla vostra mente Perché non è Non è stato creato Dalla vostra interiorità Ma è stato appreso Fuori Quindi là dove Da dove è arrivato Deve ritornare E quindi Vedo che riuscirete Anche a lasciarvi andare Riguardo a questo Tre di bastoni Quindi la leggerezza Sapete che questa persona O queste persone Sono arrivate da voi Per collaborare con voi Per darvi equilibrio Quindi Laddove ci potrebbe essere Ancora Qualche problema Io vedo che Affidarvi ad esempio Molti di voi Hanno problemi di fiducia Affidarsi Vedo che In realtà Riuscirete A vedere Che non c'è niente Di cui preoccuparsi Laddove avrete Semplicemente Delle paure Vedo che riuscirete A comprendere Dove è necessario Tenere la guardia alzata E laddove invece Potete evitare Di farlo Perché in realtà Intorno a voi Avete delle persone Positive Il 10 di denari Finale Mi dice che Sta arrivando Qualcosa Di bello Sta arrivando Qualcosa Di positivo Di solido Quindi Non mi stupirei Se con questa persona O con queste persone Potreste iniziare A costruire Dei rapporti Duraturi Solidi Magari di amicizia Magari è un partner Quello che sta arrivando Un potenziale partner Oppure Insomma Qualcuno Che però Rimarrà nella vostra vita Per molto tempo Questo è Quello che sono venute A fare Queste persone Questa è la natura Di questi rapporti Per cui È una bellissima energia Tra l'altro Sul fondo del mazzo Abbiamo il 4 di denari Per cui L'universo Vi sta aiutando In questo E l'universo Che vi ha mandato Tutto questo Che vi manderà Ancora Tutto questo E le nuove persone Che arriveranno Magari nella vostra vita Saranno mandate Perché sono in risonanza Con quello che voi Avete guarito Dentro di voi Questo 4 di denari Mi parla anche Di cercare Quando arriveranno Questi Questi rapporti Di non Tenerli Sotto controllo In nessun modo Molti di voi Potrebbero avere Magari paura Di perderli Perché una volta Che abbiamo qualcosa Abbiamo necessariamente Paura di perderlo Immediatamente Quindi Molti di voi Potrebbero essere Spaventati Proprio da questo Le carte vi dicono Di cercare Di lavorare Su questo aspetto Ovvero Nessuno Se ne va Da voi Così Repentinamente Se se ne vanno Le persone da voi Come magari avete Già vissuto prima E siete stati traumatizzati Forse non erano persone Che dovevano stare Nella vostra vita Quindi Quella paura Di essere lasciati Di essere abbandonati Di perdere le persone Eccetera Arriva semplicemente Da qualcosa Che vi è stato fatto Precedentemente Voi però lo capirete Perché vedrete Proprio queste persone Comportarsi in maniera diversa Da chi avete conosciuto prima Quindi vedo per voi Che c'è la possibilità Di vedere Il tutto Proprio anche Lucidamente Vediamo adesso Di chiedere Una carda degli oracoli Degli angeli Se c'è un consiglio Per voi Che cosa dovete dire Alle persone Che stanno guardando Questo video Che cosa dovete dire Alle persone Che stanno guardando Questo video Abbiamo la carta Di Scegli una nuova direzione E la carta Di Dipende da te Allora Queste carte Tra l'altro Improving health E queste carte Mi mostrano qualcosa Di Molto profondo Perché Nonostante voi Siete nella giusta direzione In realtà Quello che vi vogliono dire Queste carte È che siete voi Con la vostra energia Che avete creato Queste circostanze Quindi paradossalmente Se voi decideste Di cambiare energia Domani Potrebbe cambiare Anche la frequenza In cui vibrate E quindi la manifestazione Quindi Le carte vi dicono Se potete Di restare Un'energia positiva Alta Con la mente Aperta Più che potete Osservare I comportamenti Degli altri Senza Avere Dei pregiudizi Magari O senza farvi condizionare Se potete Da i traumi Ovviamente Se è difficile Ci metterete Un po' di tempo In più Magari dovete Lavorare su di voi Però quello che vedo È che le carte Vi dicono Dipende da te Se manterrai Questa situazione Manterrai questa Energia positiva O no Dipende da te Quindi devi Continuare A lavorare Per guarire Improving health È una carta Di continuare A guarire È una carta Di guarire Ancora di più Guarire sempre di più Quindi fare delle cose Delle azioni Delle abitudini Delle cose Che giornalmente Vi aiutino A sentirvi sempre meglio Sempre più liberi Da quello che avete Vissuto prima Vi radichino Con la nuova realtà Vi facciano Capire Inconsciamente Anche proprio Al vostro bambino Interiore Che non siete più Nella situazione precedente E che quindi Le emozioni Che provate Nella situazione precedente Non sono più Qualcosa che riguarda Questa situazione Questo perché Molti di voi Potrebbero essere ancora Molto spesso Nelle vecchie abitudini Intrappolati Nelle vecchie abitudini E questo potrebbe Portarvi proprio A riperpetrare Quella stessa frequenza Perché È come se vi Ricalaste dentro A quello che vi è successo Come se viveste Lo stesso scenario Quindi poi Le frequenze Vanno a creare Ciò che voi Vibrate Questo è quello Che vogliono dirvi Questi oracoli Quindi cercare di coltivare Delle abitudini positive Tenere le energie alte Le frequenze alte Con la meditazione Con sport Con una buona alimentazione Con delle buone abitudini Che non significa Alzarsi alle 4 del mattino Ma semplicemente Tenere Delle vibrazioni alte Facendo ciò Che vi fa sentire bene Scegliendo di fare Ciò che vi fa sentire bene Piuttosto che Qualcosa che vi possa Commiserare Vi faccia sentire male O rimanere Un'energia Di drama Di drammatica Di preoccupazione costante Trovare Molto spesso Non ce ne accorgiamo Ma il nostro cervello Cerca quasi I nuovi modi Per preoccuparsi Per essere costantemente Nel drama Insomma Per rovinare Una Una Vibrazione positiva Per cui se questo accade Potrebbe essere portato Da Quello che avete vissuto In precedenza Quello che vi dicono Queste carte È di Notare Fare attenzione A quando accade E cercare di modificarlo Quindi cambiare Delle abitudini Quello che dovrete fare È questo Non è semplice Cambiare abitudini Però lo potete fare Teoricamente In una ventina di giorni 21 giorni Se non sbaglio Se una cosa Viene fatta Per 21 giorni Poi tende a Installarsi Come letteralmente Un programma Nell'inconscio Quindi potete fare Questo Potete trovare Delle abitudini Delle attività Che vi facciano Alzare le vostre frequenze E farle Per almeno 21 giorni Vedrete che Sarà molto più semplice Può portarla avanti Successivamente Questo è il messaggio Per voi Spero di esservi stata utile Fatemelo sapere Con un commento Se vi va Noi ci vediamo Molto presto In un prossimo video E io vi saluto Buona serata Grazie a tutti